Cari amici di Whispers of Wisdom, benvenuti a questo straordinario viaggio di saggezza e scoperta personale. Prima di immergerci nel cuore del nostro discorso, vi chiedo un piccolo gesto di sostegno. Iscrivetevi al nostro canale e lasciate un like per darci la forza di continuare a condividere ispirazione e conoscenza con voi. Ora, preparatevi a essere guidati attraverso la profondità della vostra verità interiore. Siamo pronti a esplorare insieme questo cammino verso la saggezza. Onorevoli ospiti, cari amici, sono qui oggi per parlarvi di un viaggio straordinario, un viaggio che ciascuno di noi deve intraprendere per trovare la propria verità interiore. È un viaggio profondo, intimo, una ricerca che va al di là delle apparenze e delle influenze esterne per scoprire ciò che veramente siamo. La vita, con le sue sfide e le sue gioie, spesso ci distrae dal percorso che conduce alla nostra autenticità più profonda. Ci perdiamo tra le aspettative degli altri, i giudizi della società e le pressioni quotidiane. Ma oggi vi invito a fare una pausa, a voltare lo sguardo all'interno e a scoprire la vostra verità. Trovarla richiede coraggio, richiede una sincera volontà di esplorare le profondità del vostro essere. Iniziate con l'ascolto di voi stessi. Troppo spesso siamo immersi nel rumore esterno, nelle voci altrui, nelle aspettative altrui. Ma la vostra verità interiore parla con una voce delicata, una voce che può essere soffocata dal frastuono della vita quotidiana. Prendetevi del tempo, sedetevi in silenzio e ascoltate quella voce interiore. Il secondo passo è abbracciare la vostra autenticità senza paura. Troppo spesso ci conformiamo a ciò che la società ritiene accettabile o desiderabile, sacrificando la nostra vera natura. Ma la vostra verità interiore non ha bisogno di conformarsi a nessuno standard esterno. Abbracciatela con tutto il vostro essere, anche se ciò significa essere diversi, essere unici. La vostra autenticità è la chiave per aprire le porte della felicità e della realizzazione personale. La consapevolezza è il terzo elemento cruciale di questo viaggio. Siate consapevoli dei vostri pensieri, delle vostre emozioni, delle vostre azioni. La consapevolezza porta alla comprensione, e solo comprendendo chi siamo veramente possiamo trovare la nostra verità interiore. Interrogatevi regolarmente, riflettete sulle vostre esperienze e imparate da esse. Ogni momento, ogni sfida, ogni gioia è un insegnamento che vi avvicina sempre di più alla vostra autenticità. Il viaggio per trovare la vostra verità interiore può essere difficile, ma vi assicuro che ne vale la pena. Quando viviamo in armonia con la nostra autenticità, sperimentiamo una pace interiore che va al di la delle circostanze esterne. Troviamo una forza interiore che ci sostiene nelle sfide e ci porta a vivere una vita più significativa. In conclusione, cari amici, vi invito a intraprendere questo viaggio straordinario. Ascoltate la vostra voce interiore, abbracciate la vostra autenticità e siate consapevoli di chi siete veramente. Trovare la vostra verità interiore vi condurrà a una vita più autentica, appagante e significativa. Oggi vi esorto a seguire questa strada tortuosa e affascinante verso la vostra verità interiore. Trovare la propria autenticità è come scoprire un tesoro nascosto, un tesoro che cambierà la vostra vita in modi che nemmeno immaginate. Continuate a camminare con me attraverso i meandri di questo viaggio straordinario. La vostra verità interiore è come una gemma preziosa che risplende nel buio della confusione. Quando ascoltate la voce interiore e la abbracciate, sperimentate un senso di pace e soddisfazione che va oltre le circostanze esterne. È un potere interiore che vi sostiene attraverso le tempeste della vita, un faro che vi guida anche quando tutto sembra oscuro. Oggi, voglio raccontarvi una storia che risuona con la profondità del viaggio verso la verità interiore. In una piccola comunità giapponese, c'era un giovane di nome Hiro. Hiro era un ragazzo riflessivo, sempre alla ricerca di significato nella sua vita. Un giorno, mentre camminava nei giardini di un antico tempio, incontrò un saggio monaco di nome Kaito. Kaito, con i suoi occhi saggi e il volto sereno, riconobbe immediatamente il desiderio di Hiro di trovare la sua verità interiore. Il monaco gli parlò della strada della consapevolezza, della necessità di ascoltare il proprio cuore e di abbracciare la propria autenticità senza paura. Hiro, ispirato dalle parole di Kaito, decise di intraprendere un viaggio spirituale. Attraverso le montagne e le valli, Hiro incontrò sfide e gioie. Ma ogni passo lo avvicinava sempre di più alla sua verità interiore. Incontrò persone che lo sfidarono a guardare dentro di sé, a superare le sue paure e a abbracciare la sua autenticità. Scoprì che la vita non è solo una serie di eventi esterni, ma una danza intricata di pensieri, emozioni e azioni. Hiro imparò a essere consapevole di ogni momento, a sperimentare la vita con intensità e gratitudine. Scoprì che la sua verità interiore era come un fiume che scorreva costantemente, un flusso di saggezza e amore che lo collegava a qualcosa di più grande di sé stesso. La sua vita non fu più guidata dalle aspettative degli altri, ma dalla sua autentica essenza. Questo racconto, cari amici, ci mostra che il viaggio verso la verità interiore è un cammino ricco di avventure, una scoperta di sé stessi che si svela passo dopo passo. Come Hiro, siamo tutti chiamati a intraprendere questo viaggio e a esplorare i nostri cuori con coraggio. Continuate a camminare con determinazione, ascoltate la vostra voce interiore, e scoprirete un mondo di autenticità e realizzazione che vi sorprenderà. La vostra verità interiore vi attende, pronta a trasformare la vostra vita in un capolavoro unico. Non lasciate che la paura vi trattiene, cari amici, perché il viaggio è la ricompensa stessa. Dopo aver esplorato insieme il profondo significato del viaggio verso la verità interiore, è giunto il momento di riflettere su come integrare questi insegnamenti nella vita di tutti i giorni. Voglio condividere con voi alcuni consigli pratici, ispirati alla saggezza Zen, che possono guidarvi nella vostra ricerca di autenticità e realizzazione. Innanzitutto, imparate a coltivare la consapevolezza nel quotidiano. Spesso siamo immersi in una frenesia costante, perdendo di vista il momento presente. La consapevolezza, secondo l'insegnamento Zen, è la chiave per vivere una vita significativa. Praticate la consapevolezza durante le vostre attività quotidiane, siano esse grandi o piccole. Ascoltate i suoni attorno a voi, sentite il respiro che vi sostiene, gustate ogni boccone dei vostri pasti. Essere pienamente presenti nel momento vi aiuterà a connettervi con la vostra verità interiore. In secondo luogo, abbracciate la semplicità. Nella ricerca della verità interiore, spesso ci lasciamo intrappolare da eccessi e desideri superficiali. La saggezza Zen ci insegna che la semplicità è la chiave per liberare il nostro vero sé. Semplificate la vostra vita, riducete l'attaccamento alle cose materiali e concentratevi su ciò che è veramente importante. La leggerezza dell'essere porta con sé una profonda pace interiore. Un altro consiglio pratico è imparare a ascoltare con il cuore. Troppo spesso, nel frastuono della vita quotidiana, non prestiamo attenzione alle persone che ci circondano. Ascoltare con il cuore significa essere veramente presenti quando qualcuno ci parla, senza giudizio o distrazione. Le connessioni autentiche con gli altri possono arricchire la nostra vita e portarci a una maggiore comprensione di noi stessi. Infine, abbracciate la gratitudine. La pratica della gratitudine è una potente via per scoprire la vostra verità interiore. Ogni giorno, prendetevi un momento per riflettere su ciò per cui siete grati. Sia che si tratti di piccole gioie quotidiane o di grandi conquiste, la gratitudine vi aiuterà a mantenere uno stato d'animo positivo e a riconoscere la bellezza nelle cose semplici. Come oratore motivazionale Zen, vi incoraggio a integrare questi insegnamenti nella vostra vita quotidiana. La strada verso la verità interiore è un percorso continuo, e ogni passo che compiamo con consapevolezza e intenzione ci avvicina sempre di più alla realizzazione di noi stessi. Con fiducia, coraggio e una mente aperta, potrete aprire nuove porte verso una vita più autentica e appagante. Carissimi amici di Whispers of Wisdom, spero che il nostro viaggio insieme attraverso le profondità della verità interiore vi abbia ispirato e toccato nel profondo del vostro essere. Se avete trovato valore in queste parole, vi chiedo di sostenerci. Iscrivetevi al nostro canale Whispers of Wisdom, lasciate un like se avete apprezzato questo contenuto e condividete con chiunque crediate possa trarre ispirazione da questo viaggio. La vostra partecipazione, attraverso commenti e condivisioni, alimenta il nostro impegno nel portare avanti questo cammino di saggezza e consapevolezza. Insieme, possiamo creare una comunità che si sostiene a vicenda nel percorso verso la verità interiore. Vi ringrazio di cuore per essere stati qui con noi. Continuate a camminare con determinazione lungo il vostro sentiero personale. Vi auguro pace, saggezza e un profondo benessere interiore. Non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare per sostenere Whispers of Wisdom. Vi aspettiamo al prossimo capitolo di questo straordinario viaggio. A presto!